Dottor Scaroni, questo congresso arriva in un momento in cui il problema dell'approvvigionamento è un problema così importante e sentito? Certo, i prezzi alti che ha raggiunto il Greggio in questi giorni, il problema della sicurezza e dell'approvvigionamento energetico del gas in Europa fanno di questa riunione, che è stato un grande successo, un qualche cosa di molto vivo, molto attuale e che riscuote l'interesse non soltanto degli operatori del settore ma direi di tutti, della politica, dell'economia, di tutti quelli che hanno a cuore il futuro delle nostre economie. La ricetta di Eni, le linee per l'approvvigionamento? Oggi parlerò sostanzialmente di gas e del gas in Europa, noi siamo il primo operatore del gas in Europa quindi spetta un po' a noi parlare del tema dell'approvvigionamento energetico, non tanto traguardando l'inverno italiano ma traguardando i prossimi 15-20 anni per assicurarci che questo bene così essenziale per la nostra vita che è il gas sia a disposizione degli europei. Di questo parlerò, dirò che c'è qualche rischio che abbiamo davanti a noi ma che abbiamo anche il modo per superare questi rischi. Primo tra tutti il risparmio energetico che resta per noi la ricetta più sicura, più pulita per far fronte ai problemi di sicurezza e di approvvigionamento e nello stesso tempo anche favorendo il consumatore.